I quattro membri superstiti dell'equipaggio della Nostromo si riunirono nella mensa. Non era più affollata, troppo piccola. Aveva acquistato una spaziosità che i quattro detestavano ed era piena di ricordi che si sforzavano di scacciare. Parker teneva in mano due lanciafiamme. Ne lasciò cadere uno sulla nuda tavola. Ripley lo guardò tristemente. Dov'era? Lo abbiamo semplicemente trovato lì, sul pavimento della grande galleria, sotto la passerella. Di lui nessun segno. Niente sangue. Niente. E l'alieno? Lo stesso. Niente. Solo un foro. praticato nel sistema centrale di refrigerazione. Proprio nel metallo. Non credevo che fosse così forte. Non lo credeva nessuno. Neppure Dallas. Siamo sempre stati due passi dietro quella creatura da quando l'abbiamo portata a bordo. La situazione deve cambiare. D'ora in poi la riterremo capace di tutto, compresa l'invisibilità. Nessuna creatura conosciuta è naturalmente invisibile. Osservò Ash e Ripley lo guardò duramente. Non si conosce nemmeno alcuna creatura in grado di sbucciare come un arancio una lastra di metallo di tre centimetri. Ash non fece nessun commento. È tempo di renderci conto a cosa ci troviamo di fronte. Nella mensa ci fu silenzio. Ripley. Ora il comandante sei tu. Parker la guardò negli occhi. A me va bene. Bene. Lei lo scrutò, ma né le sue parole né il suo atteggiamento mostravano tracce di sarcasmo. Per una volta aveva lasciato da parte il suo modo di fare indisponente. E adesso? Si domandò Ripley. Tre facce la guardavano in attesa di istruzioni. Cercò freneticamente ed è brillanti nella propria mente, ma vi trovò solo incertezza, paura e confusione. Esattamente le stesse sensazioni che stavano indubbiamente provando i suoi compagni. Cominciò a capire un po' meglio Dallas, ma adesso non aveva più importanza. Su questo allora siamo d'accordo, a meno che qualcuno non abbia idee migliori. Per quanto riguarda l'alieno procederemo come prima. E finiremo nello stesso modo. Lambert scosse la testa. No, grazie. Hai un'idea migliore, quindi? Sì. Abbandoniamo la nave. Prendiamo la navicela di soccorso e scappiamo via di qui. Tentiamo di raggiungere un'orbita terrestre e speriamo di venire raccolti. Una volta arrivati in una zona follata qualcuno riceverà di certo il nostro SOS. Ash parlò piano, con parole che sarebbe stato meglio non dire. Lambert l'aveva costretto. Dimentichi una cosa, Dallas e Brett potrebbero essere sempre vivi. È terribilmente improbabile, te lo concedo, ma è possibile. Non possiamo abbandonare la nave, finché non siamo sicuri, in un senso o nell'altro. Ash ha ragione. Dobbiamo compiere un altro tentativo. Sappiamo che si serve dei condotti di areazione. Setacciamoli. Livello per livello. Questa volta saldiamo con il laser tutte le paratie e tutte le prese dietro di noi, finché non lo intrapoliamo. Io sono d'accordo. Parker lanciò un'occhiata a Lambert. Lei non disse nulla. Aveva l'aria abbattuta. Come stiamo ad armi? Il tecnico esaminò rapidamente i livelli e gli alimentatori dei lanciafiamme. Gli alimentatori e gli ugelli sono ancora puliti. Da quanto vedo dovrebbero funzionare bene, indicò l'inceneritore di Dallas poggiato sul tavolo. Quello avrebbe bisogno di un po' di combustibile. Assunse le espressioni triste. Ne è stato usato parecchio. Allora è meglio che tu vada a prenderlo. Ash, vai con lui. Parker guardò l'addetto scientifico. La sua espressione era indecifrabile. Ce la faccio anche da solo. Ash annuì. Il tecnico imbracciò la propria arma, si voltò ed uscì. Gli altri rimasero cupamente intorno al tavolo, aspettando il ritorno di Parker. Incapace di sopportare il silenzio, Ripley si voltò verso l'addetto scientifico. «Nessun'altra considerazione? Nuove idee, suggerimenti, impressioni? Tue o di mamma?» Ash alzò le spalle. Si mostrò dispiaciuto. «Niente di nuovo. Sempre informazioni marginali». Lei lo fissò duramente. «Non posso crederci. Mi stai dicendo che con tutte le informazioni che abbiamo su questa nave non riusciamo a trovare niente di meglio?» «Sembra proprio così. Ricordati che questa non era qualunque belva prevedibile. L'hai detto tu stessa che può essere capace di tutto. Possiede un certo livello mentale, perlomeno quanto un cane e probabilmente più di uno scimpanze. Ha già dimostrato notevoli capacità di apprendimento. Completamente strane alla nostro uomo. È rapidamente riuscita a imparare a spostarsi dalla nave, riuscendo praticamente a non farsi scorgere. È veloce, forte e astuta. Un predatore quali non ne abbiamo mai incontrati prima. Non sorprende che i nostri sforzi per contrastarla siano falliti. Sembra quasi che tu sia pronto ad arrenderti. Sto solo riferendo a quello che è evidente. Questa è una nave moderna e ben equipaggiata, in grado di viaggiare nell'iperspazio e di compiere una quantità di operazioni complesse. Mi stai dicendo che tutte le sue risorse sono inadeguate per far fronte ad un unico grosso animale? Spiacente, comandante. Ho valutato la situazione secondo i dati che possiedo. Il desiderare altrimenti non può modificare i fatti. Un uomo con un fucile di giorno può dare la caccia ad una tigre con qualche speranza di successo. Spegni la luce e metti l'uomo nella giungla. Di notte circondalo con l'ignoto e tutte le sue paure primitive ritornano. Il vantaggio passa alla tigre. Noi siamo nell'oscurità dell'ignoranza. Molto poetico, ma non molto utile. Mi dispiace. Non sembrava che gli importasse nulla in un senso o nell'altro. Cosa vuoi che faccia? Cerca di modificare alcuni di quei fatti dei quali sei così sicuro. Torna da mamma e continua a fare domande finché non ottieni risposte migliori. D'accordo, proverò. Anche se non so cosa ti aspetti. Mamma non può nascondere informazioni. Prova con domande diverse. Se ricordi ho avuto fortuna lavorando con le CIU. La chiamata di soccorso che non lo era. Lo ricordo. Ash la guardò con rispetto. Forse hai ragione. Uscì. Lambert si era messa a sedere. Ripley si spostò e le si sedette accanto. Cerca di resistere. Sai che Dallas avrebbe fatto la stessa cosa per noi. Non avrebbe mai lasciato la nave senza essere sicuro se fossimo vivi o meno. Lambert non sembrava ammorbidita. So solo che ci chiedi di restare per farci prendere uno per uno. Ti prometto che se sembrerà che le cose vadano male ce ne andremo di corsa. La prima a salire sulla navicella di salvataggio sarò io. Ebbe un pensiero improvviso. Era bizzarro, stranamente inappropriato e tuttavia curiosamente collegato, in qualche modo inspiegabile, a tutte le sue preoccupazioni del momento. Lanciò un'occhiata a Lambert. La sua compagna doveva rispondere sinceramente, altrimenti la sua domanda non sarebbe servita a niente. Decise che, mentre Lambert poteva essere riservata in altre questioni, per questo particolare argomento poteva fidarsi della sua risposta. Naturalmente la risposta, in un senso o nell'altro, non avrebbe avuto alcun significato particolare. Era solo una perversa bollicina mentale che sarebbe cresciuta e avrebbe continuato a dominare i suoi pensieri finché non l'avesse fatta esplodere. Non aveva una vera giustificazione. Lambert, sei mai andata a letto con Ash? No. La sua risposta era stata immediata, senza spazio per esitazioni o ripensamenti. E tu? No. Rimasero tutti e due qualche minuto in silenzio, prima che Lambert parlasse senza essere interpellata. Non ho mai avuto l'impressione che gli interessasse. Per quanto riguardava la navigatrice, l'argomento era chiuso. Lo era quasi anche per Ripley. Non avrebbe saputo dire perché continuasse a rimuginare quel pensiero, ma lei rimaneva terribilmente fisso nel cervello, tormentandola, e non avrebbe saputo spiegarne il motivo nemmeno per salvarsi la vita. Parker controllò il livello del primo cilindro di metano. Si assicurò che la bombola di gas ad alta pressione fosse piena. Fece lo stesso con la seconda, dopodiché si riposò. Poi sollevò i due pesanti contenitori e salì per la scaletta di boccaporto. A livello B tutto era calmo come sotto. Prima fosse tornato insieme agli altri e meglio si sarebbe sentito. Adesso anzi desiderava che Ash l'avesse accompagnato. Era stato un idiota ad andare a prendere le bombole da solo. Tutti quelli che erano stati presi dall'alieno erano stati soli. Cercò di camminare un po' più alla svelta, nonostante il peso delle bombole che lo impacciava. Fece una curva e si fermò di scatto, facendo quasi cadere un contenitore. Davanti aveva la camera di decompressione principale. Dietro di essa, ma non molto lontano, si era mosso qualcosa. Forse. Era facile immaginare cosa. Sbatté le palpebre cercando di schiarirsi la mente e gli occhi. Stava quasi per ripartire, quando il movimento si ripetè. Ebbe la vaga impressione di qualcosa di alto e di pesante. Guardatosi intorno, localizzò uno degli onnipresenti citofoni a muro. Ripley e Lambert dovevano essere sempre sul ponte. Azionò l'interruttore sotto il microfono. Dall'alto parlante posto nella console di Ripley uscì qualcosa di indecifrabile. Sulle prime pensò che fossero solo disturbi. Poi decise di aver riconosciuto una parola o due. «Quì Ripley. Parla piano!» Sussurrò precipitosamente il tecnico nel suo microfono. Davanti a lui il movimento nel corridoio si era improvvisamente interrotto. Se la creatura l'aveva sentito... «Non capisco!» Ripley scambiò uno sguardo perplesso con Lambert che non aveva alcuna espressione particolare. Ma quando parlò di nuovo lo fece a bassa voce, come le era stato richiesto. «Ripeti. Perché si deve parlare piano?» «L'alieno. È vicino alla camera di decompressione di tribordo. Sì, adesso. Apri lentamente il portello. Quando te lo dico chiudilo alla svelta e fai esplodere quello esterno.» «Sei sicuro?» «Ti ho detto che è qui. Fai come ti dico. Adesso apri lentamente.» Ripley esitò. Fece per dire qualcosa. Poi vide Lambert che annuiva vigorosamente. Se Parker si sbagliava non avrebbero perso che una minuscola quantità d'aria. Ma se invece sapeva cosa stava facendo?» Azionò l'interruttore. Sotto Parker cercò di divenire parte della parete del corridoio mentre risuonava un leggero sibilo. Il portello interno della camera di decompressione si spostò di lato. La creatura uscì dall'ombra e le si avvicinò. Dentro la camera lampeggiavano diverse luci. Una era di un verde smeraldo particolarmente brillante. L'alieno la guardò con interesse. Si spostò sulla soglia della camera di decompressione. «Forza, maledetto!» pensava freneticamente il tecnico. «Guarda quella bella luce verde. Così. Non ti piacerebbe avere la bella luce verde tutta per te. Certo che ti piacerebbe. Basta che tu entri, tu prenda quel bel verde. Solo un paio di passi e può essere tuo per sempre. Solo un paio di passi.» Affascinato dall'indicatore che continuava a lampeggiare. L'alieno entrò nella camera stagna. Era completamente dentro. Non di molto, ma chi poteva sapere quando si sarebbe improvvisamente annoiato o insospettito. «Ora! Ora!» Ripley stava per azionare il dispositivo di chiusura di emergenza. La sua mano era quasi sull'interruttore quando la sirena di emergenza del nostro uomo suonò per richiamare l'attenzione. Lei e Lambert si paralizzarono. Ciascuna guardò l'altra. Vide solo la propria sorpresa riflessa nella faccia della compagna. Ripley premette l'interruttore. Anche l'alieno aveva sentito la sirena. Con tratti muscoli era balzato all'indietro, superando la soglia della camera di decompressione in un solo incredibile salto. Il portello si chiuse una frazione di secondo troppo presto. Un appendice venne bloccata fra parete e porta. Dall'arto schiacciato uscì un liquido ribollente. L'alieno fece un rumore, come un gemito, un mugito emesso sott'acqua. Tirò all'indietro, lasciando l'arto intrappolato nel metallo. Poi si voltò e corse per il corridoio, cieco di dolore, vedendo appena il tecnico impietrito, che sollevò e gettò da una parte prima di svanire dietro la curva più vicina. Su un quadrante, posto sopra Parker, tutto contorto, lampeggiava una luce verde con le parole portello interno chiuso. Il metallo della camera di decompressione continuava a ribollire e affondersi, mentre il portello esterno si apriva di scatto. Uno sbuffo di aria gelata apparve fuori dalla camera mentre l'atmosfera, che vi era contenuta, usciva nello spazio. «Parker!» Ripley parlò preoccupata nel microfono, premette un pulsante, regolò un cursore. «Parker! Che succede laggiù?» La sua attenzione venne attratta da una luce verde che lampeggiava con esistenza sulla sua console. «Che c'è?» Lambert si sporse dalla propria sedia. «Ha funzionato?» «Non ne sono sicura. Il portello interno è chiuso e quello esterno è stato espulso. Dovrebbe bastare. Ma cos'è successo a Parker?» «Non lo so. Non riesco a farmi rispondere. Se avesse funzionato dovrebbe urlare da rompere gli altoparlanti.» Prese una decisione. «Vado giù a vedere. Prendi il controllo tu.» Ripley scese dalla sedia e corse verso il corridoio B. Fu un paio di volte sul punto di cadere. Una volta andò a sbattere contro una paratia e perse quasi i sensi. Riuscì in qualche modo a conservare l'equilibrio e continuò barcollando. Adesso non era l'alieno che dominava i suoi pensieri. Era Parker, un altro essere umano. Un bene piuttosto raro adesso a bordo della nostromo. Corse giù per la scaletta che portava al corridoio B e si diresse verso la camera di decompressione. Era vuota. A parte una forma immobile contorta sul pavimento. Parker. Si chinò su di lui. Era confuso e semiconscio. «Cosa è successo? Hai un aspetto tremendo!» Il tecnico cercava di formare delle parole. Dovette contentarsi di indicare debolmente la camera di decompressione. Ripley tacque e guardò in quella direzione. Vide il foro che ribolliva sul portello. Quello esterno era sempre aperto. In teoria dopo aver espulso l'alieno del nulla. Fece per alzarsi. L'acido finì di forare la porta. Ci fu un bang dell'aria che sfuggiva all'esterno e loro due furono avvolti da un piccolo uragano. L'aria gemeva nel venire risucchiata nel vuoto. Una scritta rossa cominciò a lampeggiare in diversi quadranti sulle pareti. Depressurizzazione critica. La sirena risuonava ancora, più istericamente e con una ragione più valida. Porte di emergenza si chiusero in tutta la nave, cominciando dalla sezione avariata. Parker e Ripley sarebbero dovuti essere al sicuro, chiusi in una sezione del corridoio. Se la porta stagna che avrebbe dovuto separarli dalla camera di decompressione non si fosse bloccata su una bombola di metano. Il vento continuava a trascinarla, mentre cercava qualcosa, qualunque cosa con cui combattere. C'era solo l'altra bombola. La sollevò e se ne servì per colpire il contenitore incastrato. Se uno dei due si fosse forato, una piccola scintilla provocata dai colpi avrebbe potuto far esplodere il contenuto di tutte e due le bombole, ma se non fosse riuscita a rimuovere il contenitore alla svelta, la depressurizzazione completa li avrebbe comunque uccisi. Cominciava già a sentirsi più debole per la mancanza d'aria. Il sangue le schiumava al naso e alle orecchie. La caduta di pressione aveva fatto di nuovo sanguinare le ferite di Parker. Tirò un'ultima volta la bombola contro il cilindro intrappolato. Questo fuggì via come un uccello in gabbia che fosse stato liberato. La porta si chiuse completamente con violenza e il gemito del vento che sfuggiva cessò. L'aria continuò a turbinare confusa intorno ancora per diversi minuti. Nel ponte Lambert aveva visto le sinistre scritte apparire sulla propria console. Falla nello scafo. Paratie di emergenza chiuse. Azionò il citofono. Ash, prendi dell'ossigeno. Vieni mi incontro alla camera di decompressione principale accanto all'ultima porta stagna. Ricevuto, vengo subito. Ripley si alzò con difficoltà, lottando per ogni boccata d'aria nel locale quasi privo di atmosfera. Si diresse verso la maniglia di emergenza posta all'interno di ogni paratia stagna. C'era un perno che avrebbe fatto scivolare subito la porta, aprendola alla sezione contigua e dall'aria fresca. All'ultimo momento, quando stava per premere il pulsante rosso, si accorse con orrore che non stava armeggiando sulla porta che portava al corridoio B, ma a quella per la sezione priva di aria davanti alla camera di decompressione. Si voltò, cercò di prendere la mira e arrivò alla porta opposta più cadendo che camminando. Ci vollero minuti preziosi per localizzare il pannello. I pensieri le fluttuavano nel cervello, spezzettati come bollicine d'olio sull'acqua. L'aria intorno stava diventando nebbiosa, piena del profumo di rose e di lillà. Accenò il perno. La porta non si mosse. Poi vide che stava premendo il comando sbagliato. Appoggiatasi di nuovo alla porta, cercando di dare un po' di indispensabile aiuto alle proprie gambe molli, si sforzò per raccogliere le forze per compiere un altro tentativo. Non rimaneva più molta aria che valesse la pena di respirare. Nell'oblò posto sulla porta comparve una faccia. Era distorta, gonfia, ma in qualche modo familiare. Le sembrava di aver conosciuto quella faccia tanto tempo prima. Qualcuno, dal nome di Lambert, viveva dietro di essa. Adesso era molto stanca e cominciò a scivolare lentamente lungo la porta. Ebbe pensieri i remoti e i rati, mentre le veniva tolto l'ultimo sostegno. La porta rientrò nel soffitto e lei batte la testa per terra. Un fiotto di aria pulita, ineffabilmente dolce e rinfrescante, le investì la faccia. La confusione cominciò a svanire dai suoi occhi, anche se non dal suo cervello affamato. Un segnale acustico annunciò la ristabilizzazione della pressurizzazione interna, mentre Lambert e Dash li raggiungevano. L'addetto scientifico si affrettò a prendersi cura di Parker, che era nuovamente svenuto per la mancanza di ossigeno e stava riacquistando conoscenza solo allora. Gli occhi di Ripley erano aperti e funzionanti, ma il resto del suo corpo ancora non le obbediva. Mani e piedi, gambe e braccia erano contorte in goffe posizioni sul pavimento, come le membra di una bambola sottile e non particolarmente sofisticata. I suoi respiri erano faticosi e poco profondi. Lambert posò una delle bombole di ossigeno accanto all'amica, mise la maschera trasparente sulla bocca e sul naso di Ripley ed aprì la valvola. Ripley inalò. Un profumo meraviglioso le riempì i polmoni, chiuse gli occhi assaporando quel piacere. Rimase così, immobile, succhiando lunghe profonde boccate di ossigeno puro. Il solo shock che subisse il suo organismo era di delizia. Finalmente si tolse la maschera del respiratore. Restò per un momento stesa a terra, respirando normalmente. Era stata ristabilita la pressione, notò. Le paratie si erano automaticamente ritirate con il ritorno ad un'atmosfera normale. Sapeva che, per ricostituirla, la nave era stata costretta a salassare i depositi di aria. Si sarebbero occupati di quel nuovo problema quando ci fossero stati costretti, pensò. «Stai bene?» stava domandando Ash a Parker. «Cosa è successo quaggiù?» Parker si tolse una crosta di sangue rappreso dal labbro superiore. Cercò di scrollarsi la confusione che aveva in testa. «Sopravviverò!» Per il momento ignorò la seconda domanda dell'addetto scientifico. «Che ne è dell'alieno?» Parker scosse la testa, chiudendo gli occhi per un dolore improvviso. «Non l'abbiamo preso. Quando ha suonato la sirena ha fatto un salto ed è tornato nel corridoio. Nel chiudersi il portello gli ha preso un braccio, o comunque si voglia chiamare. L'ha semplicemente lasciato lì, come un allucerto alla quale si è rimasta impigliata la coda. Perché no?» Con la sua capacità di rigenerazione. Il tecnico continuò, senza nascondere affatto la propria delusione. «L'avevamo preso, quel bastardo! Era nostro!» Quando si è staccato dal braccio ha sanguinato da tutte le parti. «Il braccio ha sanguinato!» Immagino che il moncherino si sia rimarginato la svelta, per nostra fortuna. L'acido ha corroso da parte a parte il pannello. È stato quello a provocare la depressurizzazione. Indicò, tremando, la porta stagna che separava la sezione della camera di decompressione dal resto del corridoio. «Probabilmente si può vedere il foro anche da qui. Questo ora non ha importanza!» Ash sollevò lo sguardo curioso. «Chi ha azionato la sirena di allarme?» Ripley lo stava fissando. «Questo devi dircelo tu!» «Che significa?» Si pulì il sangue dal naso. Tirò su. «Immagino che l'allarme abbia funzionato da solo. sarebbe la spiegazione logica, no? Un guasto temporaneo. Una combinazione.» L'addetto scientifico si alzò in piedi. La guardò da sotto le palpebre socchiuse. Prima di parlare, Ripley si era assicurata che la bombola di metano fosse a portata di mano. Ma Ash non tentò di avvicinarsi. Lei ancora non lo capiva. Se era colpevole, avrebbe dovuto saltarle addosso ad esso, che era debole. E Parker stava anche peggio. Se era innocente, avrebbe dovuto essere tanto arrabbiato da fare la stessa cosa. Non faceva nulla e a questo non era preparata. Almeno le prime parole di risposta furono prevedibili. Sembrava più arrabbiato del solito. «Se vuoi dirmi qualcosa, dillo chiaramente. Sono stanco di queste continue e timide insinuazioni di essere accusato. Non ti sta accusando nessuno. Un corno.» Si ritirò in un silenzio accigliato. Per un lungo momento Ripley non disse nulla. Poi indicò Parker. «Portalo in infermeria, curalo un po'. Almeno questo l'automed lo sa risolvere.» Ash dette una mano al tecnico ad alzarsi in piedi. Si mise il braccio destro di Parker sulle spalle e lo aiutò a percorrere il corridoio. Passò davanti a Ripley senza voltarsi. Quando lui ed il suo fardello furono scomparsi dietro la prima curva, Ripley porse una mano a Lambert per farsi aiutare ad alzarsi. La navigatrice si piegò all'indietro e guardò preoccupata l'amica che barcollava leggermente. Ripley sorrise. Lasciò la mano che la sorreggeva. «Sto bene.» Si pulì distrattamente le macchie sui pantaloni. «Quanto ossigeno ci è costato questo piccolo incidente? Avrò bisogno del dato esatto.» Lambert non rispose. Continuò a fissarla con aria perplessa. «C'è qualcosa che non va? Perché mi guardi in quel modo? I valori dell'ossigeno non sono più di dominio pubblico.» «Non ti scaldare.» Lambert replicò senza rancore. Il suo tono era incredulo. «Lo stavi accusando. Lo hai accusato di aver suonato l'allarme per salvare l'alieno.» Scosse lentamente la testa. «Perché? Perché credo che non dica la verità e se riesco a consultare le registrazioni lo proverò.» «Proverai che cosa? Anche se in qualche modo tu riuscissi a dimostrare che abbia azionato l'allarme, non puoi provare che non sia stato un incidente.» «Un momento molto strano per un incidente del genere. Non trovi?» Ripley rimase un attimo in silenzio. Poi domandò piano. «Credi ancora che mi sbagli, vero? Non lo so.» Lambert sembrava più stanca che in vena di discutere. «Non sono più sicura di niente. Sì, immagino di dover dire che penso che tu abbia torto, che tu abbia torto o che tu sia impazzita.» «Per quale motivo Ash o chiunque altro dovrebbe voler proteggere l'alieno? Lo ucciderebbe come ha ucciso Dallas e Brett, se sono morti.» «Grazie. Sono sempre contenta di sapere su chi posso contare.» Ripley le voltò le spalle e si diresse con decisione verso la scaletta. Lambert la osservò allontanarsi, scrollò le spalle e cominciò a raccogliere i cilindri. si occupò del metano con la stessa cura che ebbe per l'ossigeno. Erano tutti e due ugualmente indispensabili alla loro sopravvivenza. «Ash, sei lì dentro? Parker?» Dopo che non ebbe ricevuto alcuna risposta, Ripley entrò cautamente nel locale del calcolatore principale. Per un periodo indeterminato aveva la mente della nostro uomo tutta per sé. Sedutasi alla console centrale, accese un quadrante e premette insistentemente un pollice sul pulsante di identificazione. Gli schermi acquistarono, tremolando, vita. Fino a quel punto era stato facile. Ora veniva la parte complicata. Pensò per un attimo. Batte un codice a cinque cifre che riteneva avrebbe prodotto la risposta desiderata. Gli schermi rimasero vuoti, in attesa di una domanda comprensibile. Provò con una seconda combinazione, raramente usata, con uguale insuccesso. Imprecò frustrata. Se fosse stata costretta a tentare combinazioni a caso, sarebbe rimasta lì a lavorare fino al giorno del giudizio, che, comunque, vista la velocità con la quale l'alieno stava riducendo l'equipaggio, non sarebbe stato lontano. Provò con una combinazione terziaria, invece che una primaria, e rimase stupita quando lo schermo immediatamente si schiarì, pronto a ricevere e a distribuire. Però non scrisse una richiesta di emissione di dati, il che significava che il codice aveva avuto successo solo a metà. Cosa fare? Guardò una tastiera secondaria. Era accessibile a qualsiasi membro dell'equipaggio, ma non poteva dare informazioni confidenziali o relative al comando. Se fosse riuscita a ricordare la combinazione di collegamento, avrebbe potuto usare la tastiera secondaria per fare domande alla banca dei dati centrale. Cambiò rapidamente posto, batte il codice di collegamento che sperava corretto e pose la prima domanda. Il punto chiave era se il codice sarebbe stato accettato. L'accettazione avrebbe implicato la comparsa della sua domanda sullo schermo. Per un attimo i colori si rincorsero. Lo schermo si schiarì. Chi ha azionato il sistema di allarme della camera 2? Sotto si accese la risposta. Ash. Rimase seduta per digerire quell'informazione. Era la risposta che si era attesa, ma il vederla freddamente stampata dove chiunque poteva leggerla ebbe su di lei un pesante impatto. Quindi era stato Ash. La domanda critica adesso era, era sempre stato Ash? Batte la richiesta successiva. Ash sta proteggendo l'alieno? Sembrava che fosse il giorno in cui mamma dava risposte brevi. Sì. Sapeva essere concisa anche lei. Le sue dita corsero sui tasti. Perché? Si chinò tesa. Se il calcolatore avesse deciso di non rivelare altro, non conosceva altri codici con i quali estrarre nuove informazioni. C'era sempre la possibilità che il calcolatore non fosse in grado di fornire spiegazioni dello strano comportamento dell'addetto scientifico. Invece lo era. Ordine speciale 937. Informazione riservata per personale scientifico. Beh, era arrivata fino a quel punto. Sarebbe riuscita a trovare un modo per ovviare a quelle restrizioni. Stava per cominciare quando una mano sbatte accanto a lei, urtando il terminale del calcolatore. Voltatasi rapidamente, con il cuore che le saltò un battito, vide non la creatura, ma una forma e una faccia che erano adesso divenute ugualmente aliene. Ash fece un leggero sorriso. Non c'era umorismo in quelle labbra aperte. Sembra che il comando sia un po' troppo duro per te. D'altronde essere dei bravi comandanti è sempre difficile in simili circostanze. Immagino che non sia giusto criticarti. Ripley si alzò lentamente dalla sedia, stando attenta che rimanesse sempre fra di loro. Le parole di Ash potevano essere concilianti, addirittura amichevoli, ma le sue azioni non lo erano. Il problema non è il comando Ash, è la lealtà. Si tenne con le spalle rivolte alla parete. Cominciò a compiere un cerchio verso la porta. Sempre sorridendo, lui si voltò per esserle di fronte. Lealtà? Non mi sembri che ne manchi. Penso che si sia fatto tutti del nostro meglio. Lambert comincia a essere un po' pessimista, ma abbiamo sempre saputo che è un'emotiva. È molto brava a tracciare la rotta di una nave, non altrettanto a tracciare la sua. Ripley continuò a girarli intorno, costringendosi a sorridergli. In questo momento non sono preoccupata per Lambert, sono preoccupata per te. Stava per voltarsi verso la porta aperta, sentendo che i muscoli dello stomaco le si stringevano nell'attesa. Ecco la paranoia che ricompare. Hai solo bisogno di un po' di riposo. Fece un passo verso di lei. Allungò una mano come per aiutarla. Lei spiccò un balzo, evitando appena le dita che cercavano di afferrarla. Poi fu nel corridoio correndo verso il ponte. Era troppo occupata per gridare aiuto e aveva bisogno di tutto il fiato che aveva. Nel ponte non c'era nessuno. In qualche modo riuscì nuovamente ad evitarlo, azionando interruttori di emergenza mentre correva. Le porte stagne rispondevano chiudendosi alle sue spalle, ma tutte un secondo due troppo tardi per fermarlo. Finalmente la raggiunse nella mensa. Parker e Lambert arrivarono qualche secondo dopo. I segnali azionati dalle porte che si chiudevano gli avevano informati che nelle vicinanze del ponte c'era qualcosa che non andava ed era là che stavano dirigendosi. Quando incontrarono inseguitore ed inseguita. Anche se non si erano aspettati di trovare un'emergenza di quel genere, reagirono bene. Lambert fu la prima. Saltò sulla schiena di Ash. Seccato lasciò andare Ripley. Afferrò la navigatrice e la gettò dall'altra parte della stanza. Poi tornò a quello che stava facendo un momento prima. Cercare di togliere la vita a Ripley. La reazione di Parker fu meno immediata, ma più meditata. Ash avrebbe apprezzato il ragionamento del tecnico. Parker sollevò uno dei rilevatori e si portò dietro ad Ash, che continuava a stringere il collo di Ripley senza pensare ad altro. Poi vibrò un colpo con tutta la sua forza. Ci fu un botto sordo. Il rilevatore continuò lungo la propria traiettoria, mentre la testa di Ash andò da un'altra parte. Non ci fu sangue. Apparvero solo fili multicolori e circuiti stampati che sporgevano dal moncone del collo dell'addetto scientifico. Ash lasciò andare Ripley. Lei cadde sul pavimento ansimando e tenendosi la gola. In una macabra pantomima le mani di lui tentavano di toccare il cranio mancante sopra le spalle. Poi lui, o più esattamente esso, barcollò all'indietro, riacquistò l'equilibrio e cominciò a cercare la testa sul ponte.